Una fata dovette restarsi nella casa. Uffa! E quella fata si arrabbiò, divenne furiosa. Arrivò alla festa, si avvicinò alla cula della piccina e disse La principessa Aurora, il giorno in cui compirà 15 anni si pungerà con un fuso. La prima volta che si avvicinò alla cula della piccina e divenne furiosa. La prima volta che si avvicinò alla cula della piccina e divenne furiosa. La prima volta che si avvicinò alla cula della piccina e divenne furiosa. La prima volta che si avvicinò alla cula della piccina e divenne furiosa la piccina. La prima volta che si avvicinò al canale. Grazie a tutti.